Siamo finiti a Tremosine perché la strada continua a essere interrotta e praticamente siamo persi in mezzo alle viuzze di Tremosine e siamo capitati in un luogo del hotel o ristorante Panorama ho capito perché si chiama panorama perché anche se c'è tutto nuvolo lo spettacolo che abbiamo davanti è questo antichamente il residency di Ciclamino incredibile ci sono delle strade di accesso che sono minuscole faccio pratica passare con il monovolume ma penso che alla fine uscirò da qua perché vedo dall'alto la litoranea e quindi dovrei uscire mi auguro di scavalcare il blocco grazie